Un saluto a quanti e a quante ci seguono in questo percorso che la Biblioteca di Brugheri offre appunto attraverso il nostro canale YouTube. In questo momento affrontiamo i temi legati alla pandemia e ai problemi che ci sta ponendo. Finora abbiamo toccato temi che hanno a che fare con la salute fisica, quindi i vaccini, le varianti del virus, i problemi legati ai Novax, ai dubbi rispetto ai vaccini. Però esiste un altro mondo, un altro aspetto altrettanto importante. Come dice l'OMS, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Questi due aspetti mentale e sociale purtroppo sono un po' trascurati. Oggi vogliamo invece metterli in primo piano, dare spazio, dignità a questo nostro non star bene, a questa nostra fragilità. Ci siamo riscoperti deboli, fragili, abbiamo degli equilibri che non stanno più in piedi, insomma. E per fare questo viaggio di approfondimento abbiamo invitato una guida di cui sono molto contento che sia qui con noi, ti saluto e ti ringrazio, è Romano Madera, un intellettuale che è tantissime cose, filosofo, è psicoanalista, è intellettuale a 360 gradi, insomma. Sono molto contento di averti, benvenuto a Brugherio. Grazie a te. Ecco, le domande sono mille, mille che avrei, che ho anche raccolto da persone che mi hanno detto, sapendo che ti avrei intervistato, mi hanno sollecitato su alcuni temi. Direi che la prima cosa su cui ti chiederei è un po' di descriverci questo panorama che potremmo chiamare così, ma noi non stiamo bene in questo periodo. Certo, chi sta in terapia intensiva sta più male di me che mi sveglio al mattino con un senso di disagio esistenziale un po' vago, però è vero che non stiamo bene tutti, insomma, e facciamo fatica a vivere questo tempo, a vivere questo isolamento. Tu che cosa ci puoi dire di questa situazione così un po' eccezionale della nostra storia? Intanto la salute fisica e la salute psichica. Il primo dato perché l'esperienza degli analisti, degli psicoterapeuti, degli psicologi, secondo me da un punto di vista statistico generale, eccetera, è poco attendibile perché si vedono fette di popolazione in realtà molto ridotte. Non ci credo molto, insomma, alla possibilità di generalizzare, però ci sono dei dati invece che sono dei dati molto semplici e che tra l'altro fanno capire come la salute psichica e quella fisica, insomma, sono due modi per cercare di analizzare meglio delle particolarità, ma insomma non sono mai scisse, no? Se io sto male psichicamente lo sento nel corpo, l'agitazione è qualcosa che mi fa respirare diversamente, che cambia il battito cardiaco, la semplice agitazione, figurarsi l'ansia, l'angoscia, eccetera, eccetera. E dove si vede? Si vede in un dato semplicissimo, cioè l'aumento della vendita dei cosiddetti psicofarmaci. E questo è un dato che è, almeno io ho controllato i dati sull'Italia, su altre nazioni europee, sugli Stati Uniti. Insomma, senza annoiarci con le specificità, c'è un'incredibile enorme aumento della vendita degli antidepressivi, dei sonniferi, degli ansiolitici. Già questo mi dice la diffusione, l'aspetto collettivo di questo tema della salute psichica. E già potremmo stare a questi, gli antidepressivi e gli ansiolitici. Spesso anche le forme di depressione sono legate all'ansia. Uno dei modi, tanti modi, ma insomma uno dei modi anche più diretti di affrontare il tema della depressione è io sono depresso perché mi sento inadeguato, perché mi sento incapace, perché mi sento debole rispetto a qualcosa che ho interiorizzato, che mi è stato proposto, che è proprio della mia situazione, dei miei ruoli, ruoli lavorativi, ruoli anche familiari. E questo significa grosso modo che cosa? Che molto spesso, anche qua, prendendolo un po' l'ingrosso, ma molto spesso l'aspetto depressivo è legato a una risposta a una performance. Cioè io devo essere così, io devo fare così. Allora questo io lo vedo qua sopra, la salita già io penso che non ce la farò a farla e questo mi schiaccia in giù, tanto per dirla in un modo figurato. E allora qui mi pare evidente, qui c'è un aumento di che cosa? Un aumento della richiesta anche implicita di prestazione. Cioè oltre alla nostra normale vita quotidiana, che non è ovviamente priva tutt'altro, priva di peso, c'è un altro compito. Bisogna in qualche modo sostenere quest'altra cosa, cioè sostenere il fatto che ci sono impicci nell'organizzazione della vita quotidiana di vario genere, c'è il fatto che non ci sono sfoghi, che per esempio si sta più o meno sempre chiusi nel nucleo familiare, che non è affatto detto che sia, anzi in genere non lo è, un porto di tranquillità. E naturalmente, e questo poi si amplifica, questo in caso mai lo vedremo dopo, si amplifica enormemente rispetto ai compiti o ai non compiti, che sono ancora peggio, perché il non compito è il compito più grave, e cioè quello, i compiti lavorativi e non compiti, cioè nel senso che appunto ho perso il lavoro, il lavoro va male, mi pagano di meno, oppure semplicemente sono insicuro circa che cosa mai diavolo succederà. E naturalmente anche questo è una grande fonte di tensione. E da qui la difficoltà, mi sembra anche questa abbastanza ovvia, cioè quando è che noi non riusciamo a dormire? Non riusciamo a dormire quando non ci sentiamo sicuri. Chi potrebbe dormire sotto le bombe? Nessuno dorme sotto le bombe. Chi dorme se entrano delle persone in casa dove siamo? Nessuno, eccetera, eccetera. Per dormire noi abbiamo bisogno fisiologicamente, e non a caso, gli animali, i mammiferi, ma anche gli altri, si costano anche gli insetti, si costruiscono tane, tane, senza la tana e senza una tana sicura, senza una casa sicura e nessuno può dormire. E allora, ma naturalmente anche nella vita normalissima, chi è più teso rispetto a che cosa dovrò fare domani, che cosa mi aspetta, eccetera, eccetera, avrà più difficoltà a prendere sonno. È chiaro che se questa difficoltà aumenta e aumenta esponenzialmente per molti in questa situazione, qui ci sarà una carenza. tra l'altro siamo abituati ad avere un enorme consumo di sonniferi, normalmente. Già questo ci dice qualcosa sulla nostra società. È impressionante vederlo. È impressionante vederlo perché significa che quello che noi diciamo come salute psichica oppure come gente che va dallo psicologo, eccetera, è una fetta minima di un disagio gigantesco. perché, insomma, non si può guardare una popolazione e dire ma qua, ma com'è possibile che così tanta gente non riesca a dormire? E va bene, gli ansiolitici ne abbiamo in qualche modo parlato. Poi naturalmente più nello specifico, però qua, abbandoniamo il terreno abbastanza sicuro dei dati e andiamo nella, così, nell'esperienza soggettiva, no? E quindi vi parlo delle mie impressioni. Naturalmente non sono soltanto le impressioni sulle persone che vedo io, ma le impressioni che derivano dallo scambio, no? Anche tra colleghi, eccetera, no? Chi fa parte delle associazioni analitiche. Io poi, insomma, abbiamo fondato anche, poi magari ne parliamo, un diverso tipo di associazione che è culturale, ma anche di, che chiamiamo analisi biografica a orientamento filosofico, dopo magari spiegherò. Comunque, insomma, la gente che, con la quale collaboro, con la quale scambio idee, eccetera. Ma mi sembra, poi naturalmente, anche le cose che uno sente da altri e che, in qualche modo, lo illuminano circa cose che ha visto direttamente, ma che fino a quel momento non aveva fatto click. Ah, dico, questa idea corrisponde a questa esperienza. Una è la, mi sembra abbastanza evidente e soprattutto in questo periodo di quello che io dico che è la, in questo momento c'è la psicologia della recidiva. E secondo me la recidiva è qualcosa che incide su quello che avevamo detto prima con ancora più forza. Perché la recidiva, cosa vuol dire, è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, credo, no? Quali tutti, perché da un po' di anni. E cioè, uno prende una malattia e poi, in qualche modo, cerca di farsi forza, si cura, eccetera, eccetera, e a un certo punto viene dato per guarito. Lì, come dire, c'è la prima risposta, no? Dell'organismo, la prima risposta anche di quello che possiamo chiamare psiche, mente, chiamiamola come ci pare, no? Di fronte a una difficoltà uno reagisce con le forze che ha. Nel momento in cui però c'è la recidiva, ovviamente c'è un dato in più e questo dato in più ci segna perché ci fa venire il sospetto del, già prima forse ce l'avevamo, guarisco o non guarisco. Però una volta che sono guarito, no? C'è anche uno stato, come dire, di leggera euforia, no? Me la sono cavata. E che cosa succede a una persona che aveva pensato, se era sentito, me la sono cavata, quando capisce che non se l'è cavata per niente, anzi ricomincia? E allora lì è che la delusione incide fortissimamente sul fatto di riprendersi dalla malattia, perché la delusione è un'enorme diminuzione di forze. E quindi mi pare abbastanza evidente come questa psicologia della recidiva insista sul tema depressivo fondamentalmente, no? E cioè l'idea di qua veramente allora è tutto scuro e non si vede la luce. Come uno entra in un tunnel, poi vede una luce, poi porca miseria, non è vero. È stata un'impressione, è stato un piccolo pezzo, il tunnel ricomincia. E quindi questo è un primo aspetto. Naturalmente in generale al di là della recidiva, in tutti quanti, ma anche questo è un processo normalissimo, però è la riattivazione di certi aspetti, diciamo così, di grande difficoltà o addirittura traumatici del nostro passato. Dove, adesso faccio un esempio semplicissimo, cioè persone che non hanno difficoltà economiche, che improvvisamente che in genere non hanno sviluppato questa sorta di ossessione per l'insicurezza, il danaro, eccetera, eccetera, anche perché hanno un lavoro stabile, buono, eccetera. Ecco. Però, per esempio, hanno avuto nell'infanzia, vengono, non so, uno che viene da una famiglia che ha avuto diversi problemi di tipo economico, di lavoro, che fa dei sogni in cui sembra che sia ritornato povero e che sia rimesso lui adulto o lei adulta dentro una situazione che è passata da 20, 30, 40 anni. Ecco, io credo che questo, la riattivazione di varie forme traumatiche, più o meno, che possono essere questa, possono essere altre, sia una delle cose che ci capitano e anche questo non è così strano. È evidente che in una, o meglio, secondo me può diventare evidente che in una situazione di difficoltà si riattiva la nostra memoria delle difficoltà, esattamente come se io ho avuto una operazione a una caviglia, eccetera, eccetera, benissimo. Allora, quella caviglia lì è più debole, è più sensibile spesso rispetto a un anche minimo momento in cui ho messo giù male il piede. Presumibilmente mi fa più male quella lì che l'altra che invece non ha mai avuto nessuno. Questo è un esempio semplicissimo, ovvio, eccetera. Però io credo che anche la psiche funziona funziona in questo, in questo modo qua. Quindi la riattivazione e naturalmente del trauma, e questo era una situazione di grande difficoltà, ma anche un po' traumatizzante, no? Se uno sta in una famiglia che soffre molto questo aspetto della difficoltà economica, del lavoro, eccetera, eccetera. E naturalmente ce ne sono di vari altri, con tutti i tipi di trauma che possono esserci, ma questo vale in genere per qualsiasi, diciamo così, nostra debolezza, fragilità psichica. C'è una riattivazione. E qua, naturalmente, invece è molto importante, è molto importante, come dire, riuscire, primo, ad accettare che questo possa avvenire, ma secondo, naturalmente, dopo che ho accettato che questo possa avvenire, che ho una parte mia che risveglia una ferita, poi dopo, se ci si riesce o se ci si fa aiutare, bisogna anche cercare di, come si dice nel linguaggio comune, tenere i nervi saldi. Però tradotto in un altro modo vuol dire riuscire a distinguere il fatto che questa è una riattivazione di una memoria, ma non è una premonizione del futuro. E non è vero che tanto, rarissimamente, si può discutere in che senso, se non siano, per esempio, casi, ma oppure se non siano intuizioni, certo, no? I sogni, no? Sono visti spesso come, anche in modo popolare, come qualcosa che ha a che fare, che può avere a che fare con il futuro. Può darsi, ma bisogna anche stare molto attenti alla questione che se, invece, io vengo ripreso da qualcosa che ha a che fare con il mio passato, è questo che vuole dire, che è un'intuizione di dove va il mondo. Certo, sì, sì. C'è una bella distinzione tra, e questo lo possiamo capire facilmente, perché, ecco, allora, quella ferita lì verrà fuori con dei lati, con dei ricordi, con degli aspetti molto personali, e che quindi forse c'entrano poco su come il mondo riuscirà o non riuscirà, o una nazione, o una regione, riuscirà o non riuscirà a uscire dalla pandemia. Poi, dopo, un'altra cosa che è abbastanza evidente, ci sono delle persone, qui anche addirittura, che soffrono di più di aspetti, ad esempio, di ossessività, di controllo, eccetera. Allora, qui la cosa è veramente ambivalente e dipende anche dai singoli. Per alcuni questo ha significato e significa un'ingravescenza, un peggioramento della situazione. Perché? Perché ha la propria difficoltà di tenere sotto controllo con dei rituali, che ovviamente non hanno niente di concreto nel fatto di tenere veramente sotto controllo, sono problemi psichici complessi, eccetera, eccetera, c'è chi questo tipo di impulso gli viene moltiplicato dalla situazione, perché adesso uno si deve controllare anche quando va a fare la spesa, come sappiamo tutti. Oppure persino quando prende l'ascensore, devi stare attento, no? Allora mettiti la mascherina, entra, esci, guarda che cosa tocchi, lavati le mani, no? Tutte queste robe qua, no? Pensiamo a cosa vuol dire questa faccenda, che noi dobbiamo lavarci le mani. Non so, per della gente, per esempio, che ha come sintomo il fatto di lavarsi in continuazione. Allora questo però è ambivalente, perché per alcuni vuol dire un appesantimento del sintomo, cioè come uno che deve portare 20 chili a questo punto deve portare 40. Per altri invece può costituire addirittura un sollievo. Perché? Perché la propria modalità trova una conferma sociale. Dice, hai visto? Non è che uno dice così, però sotto sotto c'è, non sono io che sono strampalato, è veramente che bisogna, anzi, vedete, bisogna essere seri, controllare tutto, eccetera, eccetera, no? Quindi, e questo lo stesso per chi poi più, in modo più grave, ha forme di tipo di isolamento sociale, no? Fino a quelli che hanno di isolamento sociale quasi totale, lì, chico mori, come si dice, no? I giovani, gli adolescenti che non vogliono uscire. Anche qua può essere addoppiata la cosa, mi conferma e quindi aggrava la cosa, oppure invece mi conferma, hai visto, il mondo va così e quindi tutto sommato, ma il comune è mezzo gaudio, no? Come si potrebbe dire. Ecco, qui possiamo dire dipende anche dal, appunto, oppure al di là di disturbi ossessivi, cioè dipende dalle disposizioni, una disposizione molto generica, però, che si può usare, che si usa, no? E' la differenza di tipologia fra gli introversi e gli estroversi, cioè, grosso modo, chi trova il valore, le cose che veramente gli importano nel suo mondo interiore, persino al di là del fatto di comunicarlo, un introverso radicale, insomma, in questo modo, e chi invece trova il valore delle cose solo se può dirle a un altro, può comunicarle a un altro, cioè il suo interesse è verso l'oggetto, non è verso l'interiorità del soggetto. È evidente che in generale, anche qui con effetti paradossali, ma in generale è chiaro che chi ha una disposizione più introvertita, in generale, secondo me, tollera più facilmente questa situazione. Chi invece ha bisogno, perché la sua modalità è quella lì, no? Del contatto, della conferma, dello scambio, questi sono veramente penalizzati. Teniamo presente che il nostro mondo, la nostra società, in genere, credo che sia una cosa piuttosto ovvia, però, insomma, per il modo con cui è costruita, con cui sono costruite le città, con cui è costruita la nostra interazione sociale, il fatto che siamo ben fuori da una vita di una comunità ristretta di paese, ma anche ormai, ma dal gran tempo, da tanti anni, almeno nelle metropoli, o nelle città grandi, anche di quartiere, di caseggiato, chi a Milano conosce, io se mi guardo intorno qua, ma chi conosco? Ne conosco cinque di persone, forse, gli altri non so neanche chi siano, no? È una cosa che conosciamo tutti, l'anonimato, la folla solitaria, come diceva Riesman, un grande sociologo negli anni 60, no? E noi siamo tutti dentro questa folla solitaria, Quindi è evidente che poi l'estroversione, la necessità di dover stare attenti all'esterno, all'altro, al contatto, che in qualche modo è spesso nuovo, eccetera, è enormemente favorita dal nostro mondo, no? Ma in un colloquio di lavoro qualsiasi, secondo me, tra uno che è più estroverso e uno che è più introverso, forse per certi tipi di lavoro, ma riguardano veramente poca gente, l'estroversione è un vantaggio, no? Se io devo andare a vendere qualcosa, se ho un rapporto con la gente, se devo lavorare in echipe, eccetera, beh, insomma, il datore di lavoro, il selezionatore, preferirà questo tipo di persone. Quindi anche, c'è tanta gente che si sforza di esserlo. E naturalmente questo vuol dire che adesso, in questa situazione, questa difficoltà prende, secondo me, la maggioranza della popolazione, la stragrande maggioranza della popolazione. Ecco, questo lo posso dirlo anche personalmente, mi dispiace dirlo, ma... Sì, cioè, per esempio, io sono un introverso, molto introverso, diciamo così, e devo dire che io capisco bene, mi dispiace tanto, naturalmente anche a me faccio fatica, perché poi anche agli introversi piace, per esempio, andarsi a fare una passeggiata o a frequentare certi amici, no? Molto pochi, però quello che... Beh, però è più facile, è più facile sostenere la situazione. Oppure io li chiamo anche quelli che hanno la gruppofilia, cioè che devono stare per forza in un gruppo e questi sono molto svantaggiati da questa situazione e chi invece addirittura, e qui è anche un disturbo, anzi, ha la gruppofobia, cioè quelli che non resistono nel fatto di stare in gruppo. Qui è una versione un po' più, insomma, sofferente, no? È una versione sofferente, l'introversione di per sé può essere una versione assolutamente felice e tranquilla, ma chi ha la gruppofobia paradossalmente viene in qualche modo, è alleviata la sua situazione, no? Perché appunto di nuovo è un affatto che è diventato comune, ma stavi chiedendo qualcosa. Sì, sì, volevo interpellarti su questa... Beh, accolgo anzitutto l'osservazione su distinguere quello che uno vede e non generalizzarlo come se fosse la situazione, quindi attenersi ai dati, però è anche vero che ci sono dei segnali che sono emblematici, indicativi, in particolare dal mondo giovanile, preadolescenti, giovani, ragazzi, e in particolare un dato che mi è stato riferito dagli operatori del nostro incontro giovani su una difficoltà che loro dicono molto cresciuta di esprimere le emozioni. Addirittura di fronte al dolore o anche al lutto ci sono dei ragazzi che dicono il nonno è morto, è normale, perché devo piangere? Cioè è come se ci fosse un vissuto interiore che non ha più parole per essere espresso, non vorrei fare psicologismi di basso per carità, volevo solo provocare una riflessione, è come se non poterli esprimere con le parole poi fosse collegati invece ad espressioni che sono quelle della rabbia, di un'aggressività molto forte oppure addirittura dell'autolesionismo che sta diventando un fenomeno, questo sì dai dati, molto in aumento, insomma, cosa ci puoi dire su questo? Beh, su questo c'è una questione che prima ancora della psiche e stiamo parlando di adolescenti, no? Sì. Beh, riguarda il corpo. La prima cosa, basta pensare al fatto che le persone non possono toccarsi. Allora, nel momento in cui invece, per esempio la sessualità nascente, il desiderio per gli altri in varie forme, graduate, le amicizie, il, come dire, la ristrutturazione della personalità, questo vale per gli intro e per gli estro, per gli introversi e per gli estroversi, cioè è evidente che l'adolescenza è il momento in cui io comincio ad avere come riferimento non la famiglia d'origine, ma il gruppo che si crea, eccetera. Adesso come si crea questo gruppo se non vado a scuola, se non posso neanche stringere una mano, se non posso fare una carezza, se non posso baciare il mio nuovo amore, forse non si sa chi è, perché l'uomo vabbè, allora questo mi pare purtroppo evidentissimo e questa è una sorta di prigione dell'espressione corporea e quindi è la prigione della possibilità del mondo emotivo di esprimersi, cioè essere mandato fuori. Ma quello che non è mandato fuori torna dentro, inevitabilmente. Se io non posso esprimere qualcosa, questo mi torna dentro e mi torna dentro e mi ovviamente, giustamente mi inquieta, perché è come una tensione che io non posso scaricare. E poi pensiamo a che cosa vuol dire per un ragazzo, siamo stati tutti ragazzi, ragazze, cosa vuol dire anche semplicemente il fatto di proprio si sente, e questa è la differenza, quando uno poi diventa vecchio, si sente la differenza, non so, ma si sente la differenza nella muscolatura delle gà, cioè la voglia quando uno è ragazzino e poi diventa adolescente, eccetera, che devi scaricare, devi correre, devi muoverti e naturalmente devi avere una qualche riferimento nei confronti di altri. Poi, io non so se questo è il caso che ti è stato riferito, ma sulla questione è morto il nonno, però anche qua, qua c'è uno dei problemi che invece riguarda piccoli, grandi, tutti quanti, perché per tanto tempo e anche adesso, ovviamente, c'è una grande riduzione del fatto del non ci sono o i riti di accompagnamento alla malattia finale o poi alla morte, la cosiddetta, le condoglianze, no? Questo è enormemente, per un certo periodo non c'è stato del tutto, adesso comunque è enormemente impoverito, perché non arrivano gli amici o ne arrivano pochi, bisogna essere in pochi, la questione dei trasporti comunque uno non è invogliato ad andare, ma questo è una perdita incredibile perché noi, quando abbiamo perso, diciamo anche qua, nel modo più semplice, quando abbiamo perso qualcuno, abbiamo perso una parte di noi. Allora, e naturalmente un'altra parte di noi o quella parte di noi che è legata a quella persona, c'è un aspetto per cui vorrebbe morire con lei e in qualche modo si sente addirittura sin colpa di non morire con lei. Allora, questa parte è una parte che appunto non ha più voglia di vivere e questa parte qua deve essere appunto consolata, deve esserci qualcuno che sta con questa solitudine, naturalmente, noi stessi per primi, con gli altri nostri interessi, anche capacità di interiorizzare questa persona, cioè non vederla soltanto là fuori come l'ho vista, ma anche come parte di me, ma questo è un gran lavoro, che viene però aiutato dai gesti più semplici della ritualità, cioè anche quelle parole viete che non vogliono praticamente dire niente, che certe volte danno anche un enorme fastidio, no? Tipo io sono il luto e la gente viene lì e mi dice ma la vita continua. Questa cosa che anche può essere estremamente irritante, tuttavia è uno stimolo, tuttavia è una presenza, è il fatto che la gente ti fa vedere però che in qualche modo ci tiene a te, che in qualche modo tu minimamente ma puoi essere importante per la loro vita, ma questo è quello che ci fa rivivere e naturalmente questo non c'è. Accanto a questo però, perché qua sono tutti i lati negativi, io ho visto anche, non ho nessuna pretesa di nuovo di fare su questo nessun dato, però io ho visto molto soprattutto in questo periodo sarà la primavera che arriva, sarà tutto quello che volete, per alcuni la Pasqua, eccetera, eccetera, però molti sogni, segni di rinascita e questo non perché ci sia allora davvero ma perché evidentemente questo è anche però una riattivazione a proposito del lutto, una riattivazione che secondo me in qualche modo è naturale perché noi in realtà nella vita moriamo un numero molto alto di volte anche in senso molto positivo, per esempio l'adolescenza è una morte della vita infantile è una specie di nuova nascita è così la vita adulta è così i passaggi dell'esistenza i figli non i figli il nuovo lavoro anche naturalmente al contrario le perdite da cui però si cerca di venire fuori questo è un dato come dire soggettivo del mio mondo del mio lavoro quindi può voler dire poco può voler dire anche semplicemente che la rinascita ce l'ho in mente io per vari motivi e questo è sicuro però devo dire che c'è un riscontro oggettivo e allora io così mi sono messo a guardare nei giornali nelle trasmissioni poche che seguono quante volte beh è un bombardamento se voi ci fate caso fateci caso e vedrete è un continuo parlare e viene fuori la parola rinascita e quell'altro parla della rinascita per questo per quell'altro per quella e allora vuol dire che c'è qualcosa anche nella e questo meno male anche nel corpo collettivo cioè se non altro c'è un desiderio però tutte le cose nascono dal desiderarle altrimenti non si va da nessuna parte certo a proposito di corpo collettivo questo mi sembra un tema abbastanza decisivo di questi tempi cioè noi siamo senza stare a fare una storia particolareggiata però viviamo in un'epoca in cui per dirla con la Thatcher non esiste la società ci sono solo uomini donne famiglie dopo 40 anni da questo slogan ci siamo ritrovati uomini donne famiglie a fare i conti con un problema mondiale e non siamo riusciti ad affrontarlo insomma o meglio siamo riusciti ma a costi che forse con una preparazione sociale migliore avremmo affrontato in modo diverso come la vedi beh certo qui la grande ma devo dire che da un certo punto di vista beh la cosa tragica è che ci voglia la pandemia ci voglia il disastro come però sempre per accorgersi di cose che sono banali quella frase della Thatcher era ovviamente una frase a vantaggio della sua politica del fatto che voleva smontare delle strutture delle istituzioni sociali delle coperture sociali e infatti le ha smontate e le hanno smontate anche tanti altri per cui da questo punto di vista però l'epidemia non la si può assolutamente mettere come causa di tutto quello che è successo l'epidemia certo è una causa ma nel senso della causa che rivela una condizione sociale per la quale qualsiasi cosa poi accada e accade sempre qualcosa prima o poi che sia un imprevisto eccetera eccetera fa deragliare il convoglio e allora noi però ci dobbiamo mettere nella prospettiva del ma se il convoglio deraglia perché c'è un sasso sulla cosa forse c'è qualcosa che possiamo fare intanto c'è la manutenzione per esempio del tracciato sul quale andiamo e poi queste cose sono banali ma sono sotto gli occhi di tutti ormai le riconoscono tutti per esempio poi noi siamo in Lombardia Lombardia ha renditi medi che sono paragonabili alle regioni più ricche d'Europa avevamo una sanità meravigliosa eccetera e io veramente non la discuto sul piano delle cure specialistiche naturalmente anche di quelle che costano eccetera eccetera il problema è che siamo rimasti però evidentemente senza il pavimento e senza il tetto allora va benissimo mettere in casa delle cose di grande valore però il pavimento e il tetto vengono prima e qua questa questione generale dello smantellamento del cosiddetto welfare del fatto che una comunità e uno stato e gli stati come se cioè è una cosa incredibile a livello della comunità noi non siamo capaci ma questo non è colpa dei grandi poteri di queste robe abbiamo chi ci comanda ce lo meritiamo ce lo meritiamo perché siamo noi che le teniamo noi nel senso sì della nostra incapacità di pensarci di organizzarci di comunicare di chiedere di ottenere allora siamo noi bene allora noi che siamo capacissimi di dire beh è ovvio che chiediamo una famiglia qualsiasi a un single qualsiasi ma tu fai degli metti via qualcosa per eventualità foto certo no anzi poi gli italiani siamo pieni di risparmi quelli che hanno quattro lire bene allora e com'è che incredibilmente non siamo capaci di fare quello che può oppure un'azienda no fa l'ammortamento calcola che cosa e invece noi ci siamo trovati in una situazione grottesca no cioè la regione più ricca d'Italia eccetera eccetera però e i medici non ci sono e l'organizzazione non c'è no perché non c'è neanche le cose minime e poi non è che queste cose ce le diciamo adesso non è vero per niente ci sono addirittura delle richieste dell'organizzazione mondiale della sanità degli impegni degli stati perché ogni totanni si metta alla prova il sistema sanitario eccetera eccetera nei confronti di epidemie possibili non l'ha fatto nessuno non l'ha fatto l'Italia non l'ha fatto gli stati uniti non l'ha fatto l'inghilterra si fa lo fanno una volta non so mi pare che l'ultima volta che è stato fatto è stato fatto 19 anni fa una roba del genere allora siamo seri cioè la preparazione poi la questione naturalmente l'altra questione ci fa toccare ma un problema gigantesco da quale certo non usciremo neanche adesso ma anzi si vede esattamente il contrario e questo però è un problema epocale che non so spero che lo risolveranno le generazioni ma molte generazioni a venire di fatto noi siamo del tutto interdipendenti e qui si è visto anche qua grotescamente attraverso la pandemia ma perché ma perché sinceramente non siamo capaci di pensare minimamente alle nostre condizioni reali noi singolarmente e tantomeno noi come gruppi cioè basta alzarsi la mattina alzarsi la mattina d'inverno per esempio e toccare il calorifero allora se uno tocca il calorifero e pensa che cosa vuol dire che quel calorifero sta funzionando per non dire dell'energia elettrica per non dire di qualsiasi bene si dovrebbe rendere conto semplicemente che non potrebbe vivere così come vive se non ci fosse un'interdipendenza generale per cui quella roba lì arriva dall'Algeria arriva dalla Russia arriva dall'Ucraina arriva arriva dal dal Venezia arriva noi no ma insomma dalla Libia prima dall'Algeria sicuramente dal Medio Oriente dalla Russia eccetera eccetera sì allora che cosa vuol dire vuol dire che il mondo una banalità qualsiasi pezzo di giornale ce lo dice siamo interdipendenti è così al di là della nostra particolarità che forse può essere coltivata se siamo consapevoli però io posso coltivare la mia partita se non muoio di freddo per esempio quindi se accetto il fatto che noi siamo interdipendenti e su questo però su questo siamo neanche all'ABC della questione perché beh perché come si vede esistono delle istituzioni internazionali capaci veramente di cooperare sì alcune ci sono però o non hanno un vero potere no pigliamo non so l'ONU interessante bellissimo principi fantastici però poi dopo concretamente oppure esistono ma la loro ottica è spesso spesso non sempre ma spesso molto settoriale come il Fondo Monetario Internazionale come la Banca Mondiale non è che non fanno fanno sempre cose orribili questo non è vero per niente però è chiaro che non esistono non esiste neanche una capacità di cooperazione internazionale anzi anzi che cosa sta succedendo e che cosa succederà ci sono segni molto molto brutti di di tutto questo perché siamo nel pieno sviluppo anche questo già previsto da molti che studiavano gli argomenti da 10 15 anni fa ma siamo nel pieno del sviluppo della guerra commerciale e della guerra economica tra i due grandi nuovi competitors del mondo cioè gli Stati Uniti e la Cina questa è la situazione non devo dire vedo poca l'Europa ha fatto qualcosa ma come si vede anche qua quando noi diciamo i vaccini non arrivano eccetera è certo però dobbiamo anche dirci ma quanti sono gli anni e i decenni in cui tutti quanti con la gelosia dei singoli poteri eccetera di fatto non esiste una costruzione politica europea efficace ma tutte le volte è sempre un ingranaggio per cui per cui uno poteva dire beh l'Italia perché noi siamo quelli che vanno sempre peggio perché la burocrazia che è tutto cosa verissima naturalmente la burocrazia le leggi 10 istituzioni per fare un pezzo di strada cioè siamo all'incredibile e invece poi non è vero perché anche la Francia non è riuscita a fare neanche la Germania ma allora dobbiamo dire oh allora c'è qualcosa come in realtà si sa già nella costruzione europea che non fa funzionare le cose proprio adesso siamo al livello del funzionamento qual è la catena di comando chi risponde a che cosa qual è il tempo di risposta tra la decisione di un'istituzione e quella di un'altra e questo che è una costruzione fragile che ci sono degli ingranaggi tenuti insieme dai particolarismi e dagli egoismi delle varie nazioni e adesso si paga il conto anche di questo ah sì certamente senti volevo chiederti una valutazione non so che quando si parla con persone che pensano molto insomma poi gli si chiede magari più di quello che loro non sono dei profeti dei vati o dei saggi della montagna insomma però mi ha colpito una cosa in una intervista che hai rilasciato nel 2019 quindi poco prima che iniziassi tutta questa bella situazione hai usato questa espressione che noi siamo chiamati a cercare un senso capace di benedire e sopportare la vita ecco questo ho trovato un'espressione a parte molto bella molto stimolante ma quasi profetica questo sì del tempo di pandemia io volevo chiederti se tu ritieni così come valutazione tua che questo tempo dopo che la rinascita sarà partita viene semplicemente superato cancellato via o se sarà una ferita aperta una specie di enorme debito che dovremmo andare pian piano a rimarginare con un lavoro di anni forse anche di generazioni ma io credo intanto che questo tema qui il tema del senso secondo me ecco è poco profetico e è molto anche quotidiano io sono convinto che il senso c'è sempre il problema è un altro che senso è infatti lei si dice un senso capace di perché noi nel senso nell'orientamento della nostra vita già il nostro corpo è orientato e poi pensate alla nostra giornata e come non è orientata io oggi farò questo farò quell'altro farò quell'altro appunto devo avere un lavoro devo avere un quattro lire questo no devo badare alle mie amicizie ai figli ai nipoti ai padri le mani ha un senso c'è sempre un senso il problema è ma chi si è fermato un momento a dire ma questo è il senso che voglio io questo posso cambiarlo in qualcosa oppure senza saperlo lo subisco che le cose stanno così è vero che le cose stanno così ma le cose si sono create così sono state create così sono state fatte così sono state sono piene delle nostre decisioni e cioè la prima che è la mossa però la prima mossa la mossa fondamentale la mossa da Socrate in poi è la mossa della filosofia ma è la mossa anche delle religioni quando non sono semplicemente indottrinamento e cioè di chiederti ma qual è il senso della tua vita ma come la vuoi spendere e forse alcuni si ricordano ancora visto che qualcuno sarà stato in chiesa se non altro da piccolo insomma si ricorda quella bellissima e nettissima parabola evangelica del ricco e pulone e il ricco e pulone e gli arriva la notizia e stanotte morirai e allora quello dice come stanotte morirai morirò e allora tutta la mia vita non è servita a niente ho ammassato 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 e adesso stanotte morirai ecco questa roba qua che per esempio la filosofia antica diceva non per rattristarci anzi per vivere di più ricordati ricordati che sei immortale fallo tutti i giorni questo esercizio pensa che è importante ha un grande valore la vita perché non è eterna e non è che le tue forze saranno sempre eterne quindi devi decidere decidere il senso e questo io credo che non sia la cura per la pandemia questa è la cura per la vita naturalmente però quando poi ci affrontiamo periodi difficili o personali o sociali improvvisamente ma questo è il malanno e naturalmente il bene possibile questo tema viene fuori in modo gigantesco cioè ci accorgiamo che a proposito della pandemia noi siamo fragilissimi perché ma perché il senso sul quale riposavamo è un senso che è incapace di rispondere a queste cose è un senso assurdo è veramente è una fantasticheria anche se a noi sembra così concreto perché è una fantasticheria perché è il senso del ricco e pulone noi accumuliamo cose noi accumuliamo anche relazioni come cose benissimo questo non basta di fronte alla normale vita umana persino quella in discreta salute figurarsi se questa roba qua è capace appunto a proposito di sopportare la vita se questa roba qua è capace di sopportare la malattia di sopportare la morte di sopportare la crisi di sopportare la disoccupazione di sopportare il non riconoscimento di sopportare le rotture degli amori degli affetti eccetera eccetera è capace questa roba no non è capace la risposta è semplicissima non è capace basta tra l'altro guardare visto che siamo pieni di queste di queste storie di queste narrative eccetera il numero incredibile rispetto al al piccolo numero che sono di gente che ha avuto tutto ricchezza successo eccetera e poi si uccide si distrugge allora questo vorrà dire qualcosa sì che vuol dire qualcosa è semplice vuol dire non basta questa roba qua questo non è un senso capace anzi è accettare un senso che sai già che la prima difficoltà sei per terra e non hai più capacità di reagire noi parliamo sempre di resilienza sì benissimo ma la resilienza appunto può esserci se io sono già in qualche modo resiliente resiliente vuol dire che sono capace di assorbire i colpi e di ritornare in carreggiata ma io sono capace di assorbire i colpi e ritornare in carreggiata se grosso modo mi so orientare so che quella può essere una vera difficoltà e quindi anche mi preparo e invece noi non ci prepariamo a nulla e non prepariamo da questo punto di vista prepariamo anche poco i nostri figli e prepariamo anche poco nelle scuole perché siamo tutti orientati al adesso lo possiamo dire io l'ho sempre detto tanti l'ho sempre detto ma adesso lo possiamo dire perché forse c'è qualcuno tragicamente perché è assurdo e ridicolo che solo adesso qualcuno possa sentire ma io ho insegnato dalle medie all'università per tanti anni e ogni volta che c'era da discutere qualcosa era il problema qual è? eh dunque il problema è tecnico bisogna far imparare questo questo quest'altro bisogna capire qual è la finalizzazione concreta immediata cose eccetera cioè tutto questo periodo il periodo della scuola dove adesso tutti si lamentano non vanno a scuola eccetera è vero certo un grande disagio sì ma per fare che cosa però per imparare quattro cose ma per quello veramente basterebbe la scuola di Pinocchio e cioè imparare a leggere scrivere e fare di conto che già sarebbero una buona cosa d'accordo poi delle altre più specie ma insomma la scuola è anche un momento dovrebbe essere anche la scuola come tante altre cose un momento educativo ma educativo delle persone delle persone la possibilità che in qualche modo senza esagerare perché possono esserci altre istituzioni religiose non religiose associazioni volontariato però nel quale le persone affrontino i problemi della vita umana certo secondo l'età secondo le capacità ma la vita umana che è fatta della sofferenza che è fatta della malattia che è fatta della gioia che è fatta dei problemi fisici che è fatta del mondo ma anche rispetto a delle questioni di virgolette valori e orientamenti e quindi di problemi non basta sapere appunto dove sta il Congo non basta e sapere qual è la capitale se però nessuno o pochi raccontano che adesso c'è la pandemia però la pandemia là c'è stata insieme a un'altra pandemia che invece è una pandemia di una guerra che è durata praticamente guerra civile che ancora non è del tutto finita per vent'anni e ci sono stati quattro milioni quattro milioni morti feriti gravissimi e poi altri milioni che sono state le donne stuprate eccetera perché per in gran parte con la sotterranea partecipazione delle grandi multinazionali del settore sotterraneo perché naturalmente non possiamo farci vedere non sono loro i cattivoni perché noi comunque siamo quelli che accettano tutto questo mondo ognuno nel suo microscopico mondo perché questo affare qua è fatto per esempio di coltan e il coltan è una è una materia che specialmente si trova in certe regioni del cono e altre cose le terre rare e allora bisogna sapere anche questo non per dire allora dovete fare chissà che cosa però sappiatelo sappiamolo allora sappiamo come e questo comporta poi appunto una risposta io ho un senso che mi permetta di tollerare di pensare qualcosa di sentire qualcosa perché se non lo so come faccio non posso neanche sentire no e quindi e quindi di prendere una certa posizione che mondo voglio io che sono una formichina eccetera ma che cosa perché tutte le formiche insieme poi fanno il formicaio a che cosa voglio collaborare a questo o a qualcosa di diverso il senso soltanto che adesso adesso è veramente questo uno scandalo che queste cose possono ricevere qualche soltanto nel momento delle disgrazie mentre invece dovrebbero essere anzi il momento meglio quando stiamo meglio quando siamo più forti quando le cose vanno bene è lì che ci dobbiamo preoccupare di il senso eccetera anche materialmente appunto come dicevo prima l'ammortamento mettere a posto le cose che poi nel momento della necessità serviranno perché se no siamo appunto viviamo giorno per giorno appena succede qualcosa siamo tutti con sedere per terra sia psichicamente che materialmente certo sì mi colpisce molto questa sottolineatura che fai della una sorta di obbligo a essere educati come dicevi all'inizio alla prestazione qualcuno dice ognuno deve valorizzare il proprio capitale umano per cui la scuola è accumulazione di competenze per poi essere più forte sul mercato competitivo eccetera eccetera e questo ha come conseguenza lasciare fuori dalla finestra dalla porta questioni come la fragilità che non può essere ammessa perché è segno di debolezza e in un mercato competitivo chi è debole soccombe di lasciare fuori la morte che non può essere neanche nominata e neanche tenuta vicino e anche secondo me di tenere fuori la cura perché a me colpisce che la cura sia una parola legata o agli super specialisti il medico l'ospedale il chirurgo oppure alle donne alle badanti mentre fragilità e cura forse possono essere due parole per recuperare una pedagogia più umana come dici tu può essere una cosa di questo tipo cosa ne pensi ma certo ma appunto considerando però che fragilità e cura non sono delle eccezioni ma fragilità e cura fanno parte dell'umano nella sua come dire nella sua struttura fondamentale in quelle cose nelle costanti dell'umano le cose che non cambiano mai noi nasciamo ovviamente anzi fragilissimi ancora più fragili persino degli altri mammiferi con grandi vantaggi per questa fragilità perché il fatto che poi presumibilmente è tutto il fatto che noi dipendiamo quindi abbiamo bisogno di cure che ha costruito persino la cultura non la cultura ai libri che però sono importanti che poi stiamo in una biblioteca eccetera ma la cultura come il fatto che mangiamo delle cose che produciamo con il lavoro la tecnica tutte queste robe qui la cultura perché è perché questo piccolo uomo è incapace di essere autonomo per molto tempo rispetto alla sua età biologica e nei confronti di altri animali mammiferi compresi e quindi in quel periodo lì viene modellata la sua sensibilità la sua intelligenza eccetera eccetera la fragilità è costitutiva noi nasciamo fragilissimi ma e questo è anche un grande vantaggio e qui è la cura senza queste cure non esiste l'umanità quindi la cura e la fragilità sono semplicemente degli attitudini umane che appunto forse c'è il difetto di demandare di come se non fosse compito di ciascuno e questa è un po' virgolette la follia e poi dopo come hai detto la cura che diventa una roba specialistica naturalmente ci servono gli specialisti ma la cura è una questione che riguarda l'umano e la fragilità riguarda l'umano e come lo si vede ma lo si vede in tante cose appunto la cura è per esempio anche la cura anche quello che fate voi la cura è avere la possibilità di avere accesso a quello che l'umanità ha pensato ha detto ha espresso a un dialogo fantastico siamo riusciti a produrre queste cose che sono le voci dei morti con le quali noi possiamo interloquire per esempio appunto un libro un documento ma questa è una cosa straordinaria una ricchezza immensa tra l'altro si può curare la gente anche consigliandole di leggere un libro allora questa idea invece di parcellizzare e di rendere specialistica la cura sì le badanti ma anche lo psicologo ma anche poi allora gli psicologi vogliono la cura non si può più usare la parola perché la possono usare solo gli psicologi questo è grottesco è il livello proprio del corporativismo di stato oppure la cura è soltanto quella medica dove qualsiasi medico intelligente la prima cosa che ti dice dice guardi io le do questa terapia ma naturalmente se non c'è la sua collaborazione questa terapia non vale niente perché io non posso curare un diabetico non posso curare un cardiopatico semplicemente dandogli le medicine facendo le operazioni questo lo sappiamo tutti e il medico ti dice oh magari che lei deve fare una certa dieta che lei non è che può comportarsi così come le viene in mente d'ora in poi deve curarsi deve curarsi il medico ti cura perché tu sei capace di curarti intanto vai da lui che è una prima cosa e poi dopo farai certe cose cioè la cura è sempre presente e non la possiamo mettere in qualcuno che deve fare qualcosa in quella certo ci sono gli specialisti ma perché gli specialisti funzionino deve esserci il terreno è come dire io ho una bellissima pianta di olivo peccato che non ho la terra e allora è chiaro che quello appassisce diventa sterile non fa niente e muore e di nuovo però la cura riguarda il problema del senso del senso del senso del senso attenzione nel senso molto semplice dell'orientamento come noi orientiamo la nostra vita bisogna aver cura di questa nostra vita perché tra l'altro noi anche abbiamo degli svantaggi oltre ai grandi vantaggi cioè un animale grosso modo se non l'abbiamo troppo addestrato sa che cosa fare sa che cosa fare un lupo sa che cosa fare più o meno poi c'ha dei momenti di incertezza ma i momenti di incertezza sono rari per il resto i suoi istinti sono capaci per noi è possibile no? possiamo lasciare andare con istinto di orientamento e di difesa un ragazzino già non so di dieci anni figurati dieci anni in una grande città no non può far neanche quello perché deve imparare deve vedere deve qui l'orientamento per noi tanto è ricco quanto è problematico e allora di questo proprio della base dell'umano bisogna avere estrema cura se non lo curiamo non va da nessuna parte oppure fa quello che facciamo tutti e quindi incapace non essendo stato si deve affidare senza neanche saperlo e quindi prende per buono l'indirizzo che è maggioritario è più forte in quel momento e così si addormenta beato salvo svegliarsi quando poi gli succede qualche disgrazie certo ascolta è una chiacchierata bellissima ma ci stiamo rubando un po' tutta la mattina io però vorrei farti chiudere con qualche parola che guardi verso il futuro cioè in questa pandemia abbiamo visto tante cose contraddittorie però una che bisogna dire è che c'è tanta gente che si è rimboccata le maniche che ha mostrato voglia di darsi da fare non solo di rintanarsi a curare se stesso e ha speso energie testa creatività in forme di solidarietà di ricostruzione anche umana insomma ecco a tutta questa che voglio pensare come una grande massa di persone secondo te quali sono le direzioni su cui noi possiamo cercare di rinascere ricostruire senza rifare lo stesso mondo di prima che non era proprio adatto all'umano e al suo senso insomma devo dire che qui non sono molto ottimista sono d'accordo con te che c'è stato un grande risveglio ma guardate che per esempio l'Italia è una nazione che ha mi pare dopo l'Inghilterra in Europa il maggior numero anche prima di pandemia di gente che si dedica al volontariato questa è una ricchezza enorme benissimo che è stato fatto di questa ricchezza fino adesso anche nella pandemia quasi zero adesso forse c'è l'idea ma forse potrebbero si potrebbero attivare come se è attivata per conto suo ma dargli invece la forza naturalmente dello Stato eccetera eccetera quindi sì c'è stata questa attivazione eccetera ma quello che veramente servirebbe è la capacità di coordinarsi di parlarsi di trovare strutture di comunicazione fra queste e in qualche modo di cercare di virgolette imporre imporre allo Stato e alle istituzioni eccetera di considerare questo mondo questa forza che tra l'altro sarebbe un grande vantaggio anche per lo Stato e anche per le istituzioni cioè al di là di scelte virgolette partitiche non partitiche però la consapevolezza se solo aumentasse un po' questa già sarebbe qualcosa la consapevolezza nel senso grande forte etico anche spirituale della parola politico cioè la città il mondo siamo cittadini del mondo siamo parti del mondo ecco almeno un grado in più di consapevolezza questo sarebbe secondo me già un obiettivo enorme sul resto saremo inevitabilmente mi pare si apre un grande periodo tra l'altro c'era un grande periodo di grandi difficoltà enormi difficoltà e adesso siamo soltanto agli inizi perché banalmente la situazione economica non era economica e non vuol dire soltanto conti come sappiamo vuol dire lavoro vuol dire disoccupazione vuol dire dignità in quanto noi calcoliamo che questo fatto che la disoccupazione giovanile in Italia sotto i 33 anni ha dei numeri pazzeschi sopra il 40% anche nel centro nord nel centro sud sopra il 50 questo è un questo è un delitto questo è un delitto psichico culturale di identità delle persone di dignità allora e su questo ovviamente il seguito della pandemia non farà non farà non farà sconti perché comunque ci sono debiti accumulati dappertutto e è da temere nei prossimi anni un un aspetto di crisi crisi non solo italiana ma quindi c'è da stare attenti c'è da sapere che questo e secondo me è sempre meglio sapere che questo è un percorso di guerra non è una bella passeggiatina e quindi la cosa buona che posso augurarmi è che appunto almeno cresca un po' di consapevolezza un po' di coordinamento tra quelli che riescono ad arrivare a consapevolezza e un po' di addestramento individuale e di gruppo per affrontare una situazione che sarà molto difficile certo una curiosità finale se me la concedi io vedo che nella nella scuola che tu hai fondato e nelle interviste che rilasci spesso usi l'espressione la lotta per perfezionare se stessi che è una cosa fondamentale da fare riprendendo la lezione degli antichi filosofi secondo l'interpretazione di Hadot per esempio eccetera vorrei capire bene cosa intendi perché a me un po' risuona con anche il messaggio invece diciamo neoliberista in cui ognuno deve pensare questo io centrismo non avrai altro io all'infuori di te che è un po' il messaggio mi sono due cose che spero non c'entrino l'una non solo non c'entrano ma sono l'esatto opposto l'esatto opposto il perfezionamento di se stessi da questo da questo punto di vista tu alludevi alla nostra associazione culturale che è filo poi dopo dentro questa associazione culturale c'è questa associazione società di analisti biografici orientamento filosofico che sono un po' il cuore di questa associazione però l'associazione fa attività diverse come le fate voi fondata fondamentalmente sul volontariato qualcosa ovviamente facciamo pagare perché dobbiamo poter fare queste cose e ovviamente ci autofinanziamo bene quindi attività culturale a diversissimi livelli dalla letteratura alla psicanalisi alla filosofia alla pittura eccetera eccetera bene ma appunto tu hai colto il centro che cosa significa nel che cosa significava nelle scuole antiche oggi noi cerchiamo di farlo con metodi nuovi il perfezionamento di se stesso diciamo che il perfezionamento è l'esercizio spirituale l'esercizio spirituale non è solo quelli delle chiese eccetera spirituale nella concezione di Addo vuol dire che non è psichico non è corporeo non è mentale non è immaginativo e tutte queste cose insieme cioè noi potremmo dire olistico un esercizio olistico ma che fine ha questo esercizio uno si esercita non so fa i piegamenti perché ha un dolore alla schiena per esempio no allora oppure perché vuole diventare più vuole correre più veloce non so che cosa qual è la finalità dell'esercizio la finalità è esattamente il contrario ma non è scoprire chissà scoprire che le cose secondo noi secondo tanti come stanno e cioè l'io 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 quando io dico l'io mio appunto oggi è il narcisismo di massa eccetera eccetera è una parte piccola intanto della realtà e anche della nostra realtà psichica basta pensarci che cosa dipende veramente da me adesso noi stiamo parlando e allora io sono che cosa io sono una parte addirittura una parte che indica soltanto da dove viene la mia voce ma le parole che dico la costruzione della frase il significato che hanno l'ho fatta io no tu e io siamo vestiti no chi l'ha fatto io no allora è la scoperta che l'io è una piccola parte importante naturalmente ma una piccola parte di qualcosa di enormemente più grande allora l'esercizio filosofico spirituale olistico è ce ne sono tanti diversi si possono adattare alle singole personalità possono prendere da diverse tradizioni culturali religiose eccetera è quello che noi chiamiamo la trascendenza del dio trascendenza vuol dire lassù il cielo il paradiso ma vuol dire più semplicemente tutto ciò che va al di là dell'io cioè banalmente l'io è una parte una parte subatomica del mondo e noi infatti le trascendenze anche della filosofia antica sono molto semplici l'io che si sa si sa e quindi poi si comporta come parte del cosmo l'io che sa di essere fatto dalle relazioni con gli altri l'io che non dovrebbe cercare di perché va a suo danno di nascondere a se stesso le cose che può capire vedere quindi allora dicevano trascendenza verso il discorso vero insomma diciamo tranquillamente cerchiamo di autoingannarci il meno possibile e per autoingannarci il meno possibile dobbiamo aver chiaro qual è la prospettiva io sono una piccola parte sì un modo di vedere ma quello che vedo e quello che mi agisce e quello che mi fa e quello che mi condiziona è il cosmo sono gli altri eccetera eccetera quindi quello che io chiamo con un brutto neologismo ma l'inter intradipendenza interdipendenza è quella dei fatti delle cose intra perché anche nel mio modo di sentire di fare nella mia più grande intimità io sono fatto di quello che la mia storia la società la famiglia la società la cultura la storia hanno fatto di me e questo è peraltro vivere pienamente sì mi fa venire in mente che alcuni invece di chiamarla epidemia o pandemia hanno preso a chiamarla sindemia o addirittura diademia che fosse un po' questa inter-intradipendenza di cui ci hai parlato grazie grazie di cuore davvero una ricchezza bene grazie a te auguri per tutto e magari ci saranno occasioni per ulteriori collaborazioni tra te anche a voi spero per voi nella terapia dei libri guardate che è importante